E' stato per Ronald Reagan, dopo un mese di assenza da quando il 30 marzo fu vittima dell'attentato di Hankley, alla vigilia del centesimo giorno di presidenza, che scade oggi, un rientro praticamente trionfale alla vita pubblica. Mentre radio e televisioni di tutta America erano collegate in diretta, il presidente degli Stati Uniti è entrato alla Camera del Campidoglio di Washington, accolto da una vera e propria ovazione, sia da parte dei repubblicani, sia da parte dei democratici. Mr. Speaker, the President of the United States! I ministri del suo gabinetto lo aspettavano, gli hanno tributato un applauso che è durato quasi 4 minuti e mezzo. Alle spalle di Reagan, che risponde, come vediamo, sorridente al saluto sinceramente entusiastico di amici e avversari, altissimo l'agente dei servizi segreti, Jerry Parr, l'uomo che spinse energicamente Reagan nell'automobile quando il 30 marzo scorso Hankley cominciò la sua folle sparatoria. E' una precauzione in più, prima d'ora all'interno del Campidoglio il presidente non era mai stato scortato, seguito dalle sue guardie del corpo. Reagan, dopo aver salutato il vicepresidente Bush e il presidente della Camera, tipo Neil, con l'aria tranquilla, ben riposata, di un uomo in salute, la sua eccezionale ripresa ancora una volta, non ha mancato di stupire tutti, ha parlato di sé, dicendo che la sua salute è in ottimo stato, non così quella dell'economia degli Stati Uniti. Ha sollecitato il Congresso ad approvare il suo pacchetto economico, che prevede riduzioni dei costi delle spese per il bilancio governativo, riduzione delle spese di assistenza pubblica, riduzione delle sovvinzioni ai trasporti pubblici e alle industrie malate, l'aumento delle spese militari e, contemporaneamente, come aveva promesso durante la campagna elettorale, la riduzione delle tasse. Tagliare un po' di spese da un lato, aumentare qualche piccola spesa dall'altra, ha detto Reagan, non può più bastare. Dobbiamo abbandonare i vecchi metodi, dobbiamo cambiare sistemi. Fare qualcosa di nuovo è il momento di farlo, è adesso. Un discorso abile è stato detto, il tono di voce appena appena più fievole del normale, il ritmo appena un poco più lento di prima dell'attentato. Ora sarà da vedere se entro le prossime due settimane il Congresso approverà questo pacchetto di rilancio economico del Presidente Reagan. Continua la misura.